È partita quasi 30 anni fa la storia della Renault Megane e non accenna minimamente a battute dal resto, anzi si ripropone nella prossima primavera in una nuova veste, inedita, rappresentando una piccola rivoluzione in casa Renault. In principio è approdata sul mercato come una due volumi e mezzo, poi ha assunto le sembianze di una hatchback, in veste di anti-golf alla francese. Ora dimenticate tutto questo e fate spazio ad una rinnovata immagine più al passo con i tempi, una crossover dalle linee moderne ed efficaci, con proporzioni e contenuti tecnici degni di una concept car. Innanzitutto la nuova Megane si porta con sé la dicitura E-Tech Electric, dato che sarà l'unica variante disponibile all'istino. Un colpo di spugna a tutti i combustibili fossili, anche se ibridi, per dare spazio alla sola elettricità, rappresentando dunque una delle avanguardie tecnologiche del marchio. Si è accorciata esternamente, ora è lunga 421 cm, ma ha allungato il passo portandolo a 2,70 m. Notiamo così un ottimo sfruttamento dello spazio a bordo, con le ruote, alte, posizionate praticamente agli angoli estremi della carrozzeria. Il motore elettrico è posizionato all'avantreno, dando alla nuova Megane una trazione esclusivamente anteriore. Due i livelli di potenza, il primo da 130 cavalli e 250 Nm, il secondo da 218 cavalli con una coppia massima di 300 Nm, valori disponibili praticamente da fermo, che fanno staccare alla motorizzazione più potente uno 0-100 in appena a 7 secondi e 4. Due sono anche le capacità delle batterie da 40 e da 60 kWh, che promettono rispettivamente 300 e 470 km di autonomia omologati secondo il ciclo VLTP. A bordo il salto qualitativo, soprattutto nell'allestimento Iconic, è evidente rispetto alla precedente generazione. Molta attenzione è stata posta nella scelta dei materiali, solidi e ben assemblati, abbinati ad un'atmosfera high-tech, che punta a scardinare le ritrosie di chi ancora non è convinto di una scelta totalmente elettrica. Due sono gli schermi da 12 pollici che regnano sovrani sulla plancia di comando, tramite i quali si può fruire dei servizi connessi di Google per le mappe e la navigazione, il tutto con prezzi che spaziano tra i 37.100 euro della Equilibre EV40 da 130 CV fino ai 47.700 della Iconic EV60 da 218 CV.